Sono trattenuti da sabato, è la faccia di Marco Garatti, è la faccia di Matteo Dell'Aira, è la faccia di Matteo Pagani e Guazzugli Bonaiuti, che da sabato pomeriggio non possono parlare con le loro famiglie, che non possono parlare con la loro organizzazione, che non possono fare il loro lavoro. E queste tre persone, questi tre colleghi, che noi vogliamo liberi e liberi subito, perché deve valere la presunzione dell'innocenza, tra l'altro non solo per loro, ma anche per i colleghi afghani che sono stati presi sabato scorso dai servizi di sicurezza afghani. Queste persone noi le vogliamo libere subito, ma non solo le vogliamo libere, le vogliamo restituite alle loro famiglie, ai loro colleghi, ai loro concittadini, come persone innocenti, perché non passerà, non potrà passare e vi assicuro che non passerà il messaggio che sono stati cacciati dall'Afghanistan o che c'è stata una soluzione politica del caso. Queste persone devono tornare libere e innocenti, perché è questo che sono.